... Benvenuti alla ottava edizione di Orchestra in Gioco. La qualità di un'interpretazione, l'insieme, è determinato proprio da quanto l'orchestra riesca a guardare il direttore d'orchestra. Uno dei misteri più belli perché si fa quello che si ama e veramente vedere la soddisfazione del pubblico, gli applausi, le standing ovation è la cosa più bella. C'è proprio una tua domanda da fare al nostro amico Cristian e quindi gliela fai tu. Come hai riuscito a diventare direttore e prima di ricoprire questo ruolo suonava uno strumento? Se volete diventare dei musicisti allora formate non solo le vostre mani ma il vostro pensiero. Perché è un musicista valido, è un musicista completo. Va avanti chi ha qualcosa da dire e chi sa dirlo. Grazie. 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 Grazie.